Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Ande Ercel e Kerem Bursin si sono incontrati. Con le nuove notizie sul terremoto. Terremoti nel sud-est. L'Anatolia ha conquistato ogni parte della Turchia negli ultimi giorni. Fine. Il terremoto che si è verificato a Tai ed intorni ha influenzato la vita di molte persone. Famosa coppia Ande Ercel e Kerem Bursin. Questo nuovo terremoto ha spaventato il terremoto. Tutti sono molto integri, gli edifici sono danneggiati e di nuovo ci sono edifici distrutti. Spero che questo sarà l'ultimo. Il terremoto fa paura ovunque. Ande Ercel e Kerem Bursin hanno iniziato una campagna per rimanere in disparte. Sostieni le persone che soffrono di questa paura. Il fatto che i bambini siano i più. Ercel e Bursin hanno chiesto sostegno alle persone colpite dal terremoto. La campagna di beneficenza che hanno avviato soprattutto per i bambini. La coppia sta cercando di evitare. Non lasciare che i loro figli siano colpiti dal terremoto. Ande Ercel e Kerem Bursin sono interessati come coppia. Colpisci i bambini e cerca di aiutarli. In questo senso è importante. Materiali necessari per la protezione della salute dei bambini. Ercel e Bursin. Cerca di aiutare molte istituzioni e individui a ottenere questi materiali. Ande Ercel e Kerem Bursin organizzano le loro visite e la campagna di aiuti. Zona sismica. La coppia lavora anche per sostenere lo stato mentale. Coppia di bambini colpiti dal terremoto cerca sostegno da tante persone. Le persone continuano a fare campagne per la sicurezza e la salute dei bambini. Chi desidera sostenere la campagna per proteggere la tua sicurezza e la tua salute. I bambini colpiti dal terremoto possono ripartire dalle pagine dove possono correre in aiuto. Ande Ercel e Kerem Bursin sostengono la campagna. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.